A questo punto, dopo aver già saputo, noi vogliamo la vostra collaborazione. Io dico, e signorina, e poi tutti insieme? Facile, no? Però, con la fortuna che insieme a voi bisogna fare un saltello. Quindi dico, e signorina, il saltello è a tempo, eh? Proviamo. E signorina, e signorina, parlare al popolo di Panaru, e magari chi li fa trovare a te? E signorina, faccio il nato. Li fatevo ripetere perché dovete essere illuminati? Io voglio Gentili. Ecco qua. Oh, come se del Ferrari? Guardalemi un applaudo, siete un bellissimo. Non è lunga, è lunga, ma l'amore di marrucchisino. Luce un po' più io. E marrucchisino tra un alto. Sonti? Sì. E vigno in gavanzandà! Sì! 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 Non è che ognuno può farlo quanto gli pare. Deve essere fatto a tempo. Anche le luci leggermente prima, a tempo. Mi raccomando, Giuseppe. Facciamo un applauso a tecchi con luci, Giuseppe, dai! E Iponici, Giappetto e Alberto! Allora, dicevo, i signori in gavanzandà! Sì! Ecco, preciso deve essere. E il saltello. Vi dico che porta molto, molto, molta fortuna in amore. E il saltello. E il saltello. Ci salta a piloti di tutti. Giama questa sera. Portatevole qualche risultato. E il saltello libero. Senza aiuto. Così il manino da divinire. Ma non ti mangi. Io che ci sarà più un grado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.